Una serata all'insegna di moda, inclusione e denogastronomia dato a Barletta, il benvenuto all'estate. Il servizio di Alba Di Palo. Raccontare le sfaccettature della bellezza che spiegano un territorio. Disegnare con lo sguardo un concetto di bello che esce dai canoni imposti e che risulta capace di attrarre mente e occhi. Il solstizio d'estate a Barletta è stato vissuto con la poliedrica espressione di ciò che aglieta l'anima e il corpo. Organizzata dall'Associazione Divine del Sud, la giornata che con la sua luce annuncia l'arrivo della stagione più attesa e amata è stata caratterizzata dalla Puglia, narrata da abiti e prodotti con cui è riconosciuta in tutto il mondo, specie ora che la ripartenza è cominciata. Diciamo che il comparto è resiliente, tenta di riprendersi anche se dal 2014 al 2019 abbiamo registrato una flessione con 844 imprese in meno, ma confidiamo nel fatto che possano agganciare la ripresa. La Puglia come terra che sa accogliere e valorizzare il suo incanto. Stasera c'è tutto quello che di meglio la Puglia può offrire, ma è una serata importante per queste ragazze che sfileranno, che sono diversamente belle, diversamente proprio perché questa nostra accoglienza nella diversità è uno dei valori principali della Puglia. Grazie a tutti.